32 pic per la promo radioattiva Vediamo se droppano ragazzi Intanto se volete invitatemi Se volete ragazzi Intanto se volete invitatemi Infatti ragazzi non è neanche così malvagio Devo dire eh sì Boh vediamo se escono anche gli altri pacchetti promo Sì In teoria ci sta ragazzi Eh infatti ragazzi Cioè guarda schiena col giocoliere potrebbe essere molto interessante eh Quello sicuramente Dai che me ne esce uno Il drop è più basso Ma perché ci sono meno carte nei pacchi Anche capito quello Comunque il design è bellissimo Sai che vorrei provare cante con il proscione Ti prendo queste qui tanto le butti del builder Tanto le butti del builder easy Ti fai la boom and young e via Vorrei provare cante con il proscione Potrebbe essere Interessante eh Che ne pensi Magari con un po' di automatismi difensivi Beh potrebbe essere una bella carta Quel cante comunque Sì sì Benze ma Si benze ma 8-8 Quaraschelia Non è male Quelle Quaraschelia Secondo me Sono carini per me Boh quelle carte ragazzi Sono tutte belle carine Comunque ragazzi Anzi Anzi Quello c'è un c magari Magari c'è un c potrebbe Potrebbe farti davvero Tanto la differenza Secondo me ragazzi Ci sta Ci sta ragazzi Musrati 81 Ah Secondo pick Secondo pick Non è malissimo comunque Ugarte 81 Questo pure lo buttiamo tranquillamente Easy Ah che dici Brother Che ne pensi Raynildo 81 Signori intanto eh Il grande Renildo Cantè sarebbe da provare L'evoluzione domenica Dovrebbe uscire come sempre Uscirà in ETS Evolution In teoria Poi quando ve la spaviamo nel profilo Insta Mirko Quelle poi ve le spaviamo lì tranquillamente ragazzi Che dici Magari con una bella ombretta Andre con una bella ombretta Che ne pensi potrebbe starci Magari 85 rated Io dico di sì, secondo me sì ragazzi Secondo me sì ragazzi Eh che sì, mi sa che bello che sì con la fascetta Anzi Oshuala puri c'ha anche il playstation Della Della acrobata Oshuala, za c'ha quello del razzetto Za Ericsson ha quello del passaggio comunque Ericsson Ha quello del passaggio comunque La Kerr ha rapid invece La Kerr Ma Benzema mi sembra devastante Benzema mi sembra Benzema c'ha quello del Cos'ha il Il power shot a Benzema Il power Non è neanche quello dello slalom Nello stretto C'è il dripping dello stretto Non è male Peccato che non hanno messo a Wea Il playstation plus Peccato sì Wea sarebbe stato al top A lui sì Secondo me sì ragazzi A lui sì Peccato perché Wea Poteva essere un bel bagatone Poteva essere sì Onesto Griezmann è un bel animale È forte Griezmann Kenny invitami Te li apri i pacchetti Kingolero dei pacchetti Invito Certo Grazie Certo Certo che sì brother Certo che sì Speriamo bene Andre Poi vediamo un attimo Che cosa riesce a beccare Sti pacchetti Intanto Intanto ragazzi Speriamo bene Incrociamo le dita brother Incrociamo le dita Proski Ok questo Possiamo buttare tranquillamente E se No che sia un help Priestess plus Guardio la blocco Guardio la blocco Su bonsai c'ha trivela 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 sì Trivela direttamente Anche Zincenco c'è il razzetto Comunque Eh non lo so Kenny Vi cogi i pacchetti Da aprire cucciolo In teoria 82 Lo senti anche tu Carrizio L'avverti Pensavo le stesse Tire a giro Ah ok Quindi non i powershot Come i shiru Per esempio Ah ok ok Tanta robetta ragazzi No Zincenco c'ha il razzetto Ragazzi Zincenco not bad Eh Crismane da fare Io ragazzi Onestamente Se vuoi siete bravi A tirare col tiragino Io lo farei Ma tutta la vita proprio Eh Poi oh È il mio punto di vista Eh Non so se Se a voi o garba Eh Su 72 Vabbè la finirai Tra un'oretta e mezza Due ore Tra un po' di orette Eh ti mancano 15 partite Ti mancano 11 game Vabbè Se hai leaf Tieni di leaf Ovvio Non È un più uno Rispetto leaf Non è che dici Chissà cosa Un po' di stats Neanche di overall Per dirti Eh Cioè non è che cambia Chissà Chissà quanto Eh Ma niente di che Sleep Settivo mese Bentornato Cucciola Come stai Bentornato Bomber Tutto bene Via 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 Carmi Quello che avevo messo Su insta Ragazzi Seguitemi su insta Per non perdere tutte quante le news Eh ragazzi Sempre lì ragazzi Sempre lì Dai Chi è questo qua Vabbè Odio Hummels Manco brutto Dai Ma anche Paraskelia è interessante Ragazzi Ha voglia Paraskelia sì Ha voglia di interessante Ragazzi Murphy Murphy Attenzione Andami Andami Uno decente Please Ultima Niente Cucuese Oh non c'è Di che Di che Di che Si Allora Pawolek Si va Si va Ehm Eh Chex Vai vai Fai andare Quando vuoi Fai andare Siamo che Salva Cosalmente Ha sempre ragione Chi corona Sì Ma perché Qualcosa la sa Qualcosa la sa Figurati Ehm Ah Lo share Intendi Gio È la connessione Brother È bella La connessione Sì È la connessione Amor mio Ehm Che Zetrix La voglia E lo dis Bah mamma mia Siete il pezzo Di lo di con Sfer e basta Pazzo Mamma che hit Mamma mia Hanno tirato fuori Una hit Uh Lagatoto E lo di più Sfer e basta Allucinanti Ragazzi Allucinanti Ascoltatevi la canzone Anche se mi piace Sfera Magari Anche se mi piace Sfera Stuccatevi La canzone è quella che ha fatto Sfera Quella di L'ultimo album Che a me Che ha fatto adesso Con elodie Fa paura Fa paura Fa paura Mamma mia Bellissima Quella canzone Troppo bella Chi che dicono Griezmann oggi Poveriggio No Impossibile Non arriva Griezmann oggi Ragazzi La Ye L'ha annunciato proprio L'hanno detto Poi la Ye L'ha detto Ragazzi O a meno che Non cambiano le carte in tavola Ma l'ha detto la Ye Ragazzi Tutte e due Pazzo La canzone è bellissima Poveriggio Ascoltati la canzone Fidati Ascoltati anche la canzone Pazzo È nell'ultimo album di Sfera Fidati Io se avessi apporto la possibilità C'andrei Chiroma Ti do di la verità C'andrei Tutta la vita Se faccio i picchi Li tengo Per la nuova promo Posso uscire Quelli della nuova promo Sì Ma non ti conviene Aprili adesso Per vedere Ma stanno tante Tante carte speciali Stasera Tante radioattivi Stanno Cucciolo Non ti conviene Quando Beh si Casa Sicuramente Non sarà uno Di passaggio Non sarà uno Di passaggio Non sarà uno Di quelli che fa Due tre Hit E via Insomma Per dire È l'ultimo Di presenza Ancora più bello Non l'ho mai vista Di persona Alle otto L'ho vista Di persona È l'ultimo Di mai Non Ce l'avevi Anto Ce l'avevi Ce l'avevi Ce l'avevi Anzi Mamma mia Allora Papos Le l'ho vista Di sfuggita La games week Zedrix L'ho vista Di sfuggita La games week Sì Demeschi Grazie per il follow Benvenuto Grazie Marco per il follow Grazie Luca per il follow Benvenuti Benvenuti Kodus Di 2388 Aspetta che te lo dico subito Te lo dico subito 4-4-2 Fregarne se puoi Allora Dopo l'ultima pace In meta E cambiare gioco A stecca Allora Griezmann Ah Aspettate 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 Non so chi sia Sto tizio Razer Che dovrebbe essere Un tizio francese Non lo conosco Un linker francese Cambio di programma Potrebbe arrivare Griezmann oggi Potrebbe arrivare Potrebbe arrivare Griezmann stasera Non so chi è Non so chi è Io ve lo segnalo così Cambio di programma Anche se la lì Non l'ha annunciato Non c'era nella 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 lista di roba Che doveva uscire Questa settimana E Non c'è sempre parlato Con due libri Mi volevo appazzire Quando tre anni la conoscevo Non si indietro Mi chiedono i suoi piedi Ah si Jax Sì ne Allora Ma ora sei tornato In Italia No Jax Sei tornato No già lui Me l'hanno raccontato Ah ok 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 Vabbè la Katari Si è bombata Mezza serie A Si è bombata Si è bombata Mezza serie A Niente eh Niente di che Questi qua Potrebbe arrivare Griezmann Allora Metti Marchisci E Bellingham If Però te vanno Più che bene Allora Ok Aspetta Eh ho visto Perché sei tornato Jax Perché sei tornato Pavardo 83 Mamma mia Mamma mia Allora Eh è vero È vero Allora Cioè Aspetta Ok C'è così C'è così Ah Kudus Aspetta Devo guardare Kudus Anche Con che Griezmann Potrebbe arrivare Oggi Vi confermo Che potrebbe arrivare Oggi Poteva arrivare Aspetta Vediamo E Dove sta Aspetta Kudus Siuppa Kudus Mi ha chiesto Il ragazzo Dove 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 Un attimo Che vedo subito Perché c'è Un attimo Il track Ed ufficiale No War Siuppa A War Kudus Sì 87 Arriva Anche Kudus 87 Quando mi offre Una raffoca Quattro mesi Ce la ne stanno Quando vuoi Oggi Esco Sicuro Oggi Oggi Sicuro Esco Sono due giorni Che sto chiuso a casa Si Sto impazzendo Oggi Esco Mi sono finalmente ripreso Allora Ciao Pedro Che si fa oggi Cosa propone Taranto Stasera Cosa propone Taranto L'old L'old fashion L'old fashion L'old fashion Sta lì Gonzalo Ramos Grisma Quanto costarà 500k Quattro sfide Visto Bellingham E chiedeva 6 Eh potrebbe Poi dipende anche Da che prestazioni Li metto però Dove è il track Che ti compito Degli app Andrei Subati Te la metto su Insta Aspetta Cioè su Nel gruppo sub Aspetta Vediamo Allora Possibile oggi Aspetta Possibile oggi Griezmann Ragazzi Possibile oggi Griezmann Aspetta Ve lo metto Direttamente di qua Ti metto il track Direttamente qua Così ce l'hai già A disposizione Oh niente Non ce l'ha droppato Qua comunque Oh allucinante Allucinante Non ce l'ha voluto Droppare Incredibile Vai Ti ho messo Già il I giocatori I player Ti ho messo Già i player Ragazzi Showbetro si farà 89 Boost Queste qua Nah Boost A chi è Si Boost A chi è E niente di che Come Momayang A me piace Momayang Ragazzi Cioè Onestamente A me Però ripeto Cioè A me stuzzica Bisognerebbe provare Ragazzi Però Con quel playstice Sembra carino Ragazzi Sembra Sembrerebbe essere carino Con quel playstice Andrebbe comunque Provato Ragazzi Andrebbe comunque Provato Ragazzi Che ti serve Not Che ti serve Si Andrebbe comunque Testato bene Ragazzi Provato E testato bene Ragazzi Ovvio che si Chi è Ah Vabbè Roberson Il medico Roberson Bene 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 Sì Anche Potrebbe starci Comunque Vabbè Questi li faccio volare Tranquillamente Chi Brother Di chi parli A pomayang Vedi Non è brutto giocatore A voglia Certo che ci sta Ragazzi E' un ottimo player Ci mancherebbe altro Ovvio che si Se hai la ligand Sì ragazzi Io l'ho fatto per quello che costa How much Quanto costa Precisamente Quanto costa Per il mega panca Delle fg pro Qual è il comando Ma le bliti Vi segui la diretta Poi ve lo diremo su insta Vi metto la storia su insta Quando devi seguire la diretta Ragazzi Ve lo dirò direttamente Poi io Non ti preoccupare Commento if Una bomba Una bomba in mano Fortissimo Ragazzi Vabbè Tio è clamoroso Ragazzi Cioè Tio si parla Ognuno Giocatore Giocatore pesante Pesante Tio Da niente Ve lo provo C'è il C oppure Sterdo C'è il C C'è il C Sì c'è il C Spagnolo Dici Chi è questo qua Uh Attenzione Paredes Chi è Ah Chi venez Chi venez Ah vabbè Però Leaf Costano Quello 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 Raga Lo scam Leaf Eh ma Lì Sì magari Qua riusciamo a trovare Così decente Ragazzi Vediamo un attimo Vediamo un po' Ragazzi Vediamo un po' Vai vai Puoi già andare Puoi già andare Non ti preoccupare Ce li puoi aprire tutti quanti Sti pacchetti Se vuoi Bella mattina Come stai Beh che ne pensi Di questo evento radioattivo Che ne pensi A me piace Sincere A me piace È un bel È un bel evento Comunque Se me può starci Tutta la vita Ragazzi Per i pacchetti Potete imitarmi Ma pure adesso Se volete C'è anche adesso Non fate i problemi Eh ragazzi Anche adesso Che cos'è Portiere Onana Signori Onana Bello per Onana Signori Bella bella per Onana Questo 85 È 85 Sto Onana Vabbè questo Vole nel builder Che è una meraviglia Comunque Cante al procione Io per quello Ti sto dicendo Andrè Per quello Ti dico Cante col fatto Che al procione È tanta roba Sì È tanta roba Per quello Ti dico Occhio perché Magari Potrebbe essere interessante No Aspettiamo Magari Dobbiamo provarlo È da provare È da provare È comunque da provare È comunque da provare Quindi Non voglio giudicare Prima di Ti avermi toccato Con male Noi giocatori Insomma Bellingham Non è male Ci sta ragazzi A voglia È solo estetica Quella rossa Quella rossa I Kiko Solo estetica E Aspetta magari L'Icon Dopo domenica Asce il pic Probabilmente Potrebbe arrivare Il pic Domenica Se vuoi un consiglio Magari domenica Il pic È tanta roba Domenica Potrebbe arrivare Un bel pic E si gode Se vuoi Magari aspetta Il pic E tanti saluti Ci può stare A voglia E magari Sarà prestato bello Vedere sempre le carte In che senso In game In che senso In game Cosa intendi Allora Uh Se sta Icon Mezzica Con i tv Vabbè Dì arriverà Ragazzi Hanno Mumenteranno anche L'evolution Quella di Rabiot Oppure Arriveranno Non ho capito Cosa ti aspettavi Cata Orban Noi abbiamo detto Tutto quanto Il gruppo Sab Beh Sapevate già Le Le varie carte Eh c'ha pure Il Rabiot Come playstads plus Nistinator Su me le carte Sono belle Ragazzi Che li vuoi dire Nistinator Cioè Hanno fatto anche Quarascale L'hanno messo pure Il playstads Il giocoliere Cioè Sono carine Comunque Sono tutte carine Ci sta Ragazzi Ma ormai Ah per i punti Esperienza Dici Ok Vabbè Quelli le metteranno Eh Tevez si buono Non è male quel Tevez Eh ci sta Non è male Non è male Assolutamente Ragazzi Sì Per quello ti dico Ma vediamo Le bet Ma le paghiamo subito Allora Uno qui E uno qui Perfetto Però le carte Sono belle Andrei Mez Cavoglia Hanno messo anche Dei playstads carini Ci sta Ragazzi Ci sta Boys No no vabbè I playstads Sono belli Non so Non so brutti Anzi Uh Mustrati Signori Il grande Mustrati Signori Vedi là che roba Il grande Mustrati Signori Questo è da skip Tutta la vita Ragazzi Pacchetto Sono premium Vamos Sì Vabbè Ci facciamo Il sugo Ci facciamo Figurati Cici Statutitenze Quale sia Sculare quelle carte Eh lo so Ragazzi Lo so Lo so Però le carte Sono belle Caspita Mazza Quella Mi stuzzica Un casino Andrei Eh assai Già di base La carta La carta Quella normale A me piace Un bordello Cioè Te figurati Quella lì Quella che hanno Messa adesso Sarà ancora più Forte Mamma mia Tanta robetta Ragazzi Griezmann Valverde Ma pure Messi Ma poi la cosa buona È che li metti in capo Parto già con due D'intesa Cata Cante col procione Cante col procione Anche No Le carte Sono belle Sono belle Prope le carte Guardi O c'è il blocco Pure A quello di Kimpembe Comunque In teoria Giusto Eh mi pare Sì Ehi Vedilo Il buon Kimpembe Nazionale Signori Vabbè questi Buttiamo tranquillamente Sopra Questo è questo Pure Sì infatti Andri infatti Ci sta Ci sta Andri Sono tutte belle Cartine Secondo me Sì Raga Eh Buono Buono Tarietto Buono Bello Quello Of Two Chic Pure Gasante Devo dire Gasante Gasante Il punto giusto Devo dire Abome Che carino Le hanno messo Anche Prestez Rapid Pure Che dici Sto Griezmann Eh Vale Staz Quale Il pioniere È il tiro A giro Però Il tiro A giro Rispetto al pioniere Che c'è la trivela Per me è forte Regà Griezmann Se hai avuto Quelle spede 500k Ti giri Fa sempre Gol Griezmann Invitami Quando vuoi Buon 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 lavoro Buon lavoro Broder Ho trovato Lucio Metz Misty Prime Speriamo Speriamo Bene Speriamo Bene Eh Magari Magari Arsenal E Odegaard Eccolo lì Sidiori Odegaard Questo lo buttiamo Tranquillamente Broder Tu lo sai Dario Quando vuoi mi trovi sempre qua Dalla mattina alla sera Bomber Sempre qua Quando vuoi Io sempre qua sto Sono sempre reperibile Sempre reperibile Certo Marco Se vuoi permitarmi Già adesso Per i pacchetti Se vuoi Tanto qua sto io E Ti amo Miang Però per quello che costa Ci può stare Comunque Secondo me E' vero che Comunque E' del Marsiglia Non è della Premier Ci sta E' ovvio Però secondo me Per quello che costa Non è così brutto Come giocatore Non è così male Anzi Anzi Raga Ho trovato Niente speciale Niente di più Azz Ci può stare Devo dire Ci può stare Oggi Bene capito Le luci In una giornata Bello Mamma mia Sì Spettacolare Devo dire Che cos'è C'è Ehi Leverkusen Leverkusen Ok Allora Vabbè In capito 84 Dai Posso anche starci Dio non è uscito Ma C'era anche L'evoluzione Quella di Rabiot E' Carrasco Quei pacchetti là Sono i migliori E' sì Allora Che cos'è No brutto Ma non è che sia una bruttissima carta Anzi 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 Ci sta Allora che cos'è Mignolè Signori Il grande Mignolè Signori Abbiamo perso il conto Nic Ormai Abbiamo perso il conto Ormai È vero È vero È vero No Peccato Axl Il grande Axl Peccato Peccato Ragazzi Inglise Di ciechi È questo qua Dammelo buono Please Dammelo buono Dammelo buono Ehi Rio Ferdinand Carino Carino Lo vuoi Unire in cacciara Buttiamo anche unire in cacciara Dai Vediamo che troviamo Io mi sento Lucio Mi sento Lucio Mi sento Lucio Mi sento Lucio Quasi Quasi Va bene Cordo Attaccante No Dopo questa settimana Di Luca Gutuono Arriva Luca Cubasi Vediamo se becchiamo Un radioattivo Dopo andiamo da Marcello Subito Andiamo Questa Griezmann È bellissima È molto forte Ragazzi Certo che stavano I pacchetti Ragazzi Hanno messo L'info peak Buono Cante col prusione Buono Cante col prusione Ragazzi Vuol dire che è molto Più aggressivo Vuol dire Vedi che Vedi che è una bella cosa È una bella cosa Cante col prusione Secondo me Vuol dire Eh Vuol dire tanto Ragazzi Perché Vuol dire che ti va a fare Anche gli interventi automatici Capito Cioè È parecchia roba Secondo me Ragazzi Eh Che dici Sì Che dici Allora Veramente Cosmos Ci credo Tanta roba Comunque Cosmos Un anno insieme Un bacio È davvero mio Grazie 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 mille Cuccelino Come stai? Tutti a posto Marmie? Ho l'andoro Pomeyango Con Tevez base Pomeyango è carino C'ha il Rapid Pure Ho chiesto a Pomeyango Perché c'è il Rapid Mica male Devo dire Ma hanno regalato Anche un notatore Più L'hanno regalato Quanto pare L'hanno giftato Zì È vero Cosmos Ma è sempre così È sempre così Mazza Pure tu però Sei esagerato Tu sei clamoroso Comunque Vabbè Pomeyango Il Playstack Che mi gusta Ragazzi A Rapid Quello è veloce È molto rapido Ragazzi Fidatevi Ragazzi Non male Non male Non male Cdc Chi è questo? Busta? Bustacchietta Immagino Allora Tanta robetta Eh sì Che è uscito Un obiettivo Dio Allora Eh infatti Vediamo Allora Ok Ci sta ragazzi Ci sta ragazzi Ci sta Ci sta Ci sta ragazzi Sono belle cartine Comunque Sono tutte belle cartine Rari Maxi Dammelo buono Please Dammelo buono Mi hanno regalato Un pack 3 da dare più Azz Eh sì A tutti quanti Invitatemi Che ve lo apro Se volete Ma l'hanno regalato A tutti Ragazzi L'hanno regalato A tutti Quel pacchetto Vabbè 10 picco Abbiamo qua Ragazzi Sì Vabbè Casa tanto Casa tanto Vabbè Bello Prendo quelli L'alti Prendo Fa niente Che sono doppioni Ah Una sfida Allora Servirebbero Degli over L'alti Degli 89 90 Servirebbero Qui Allora Se gli manca L'ultima sfida È praticamente Fatto Praticamente Fatto Servono giusto Gli ultimi Gli ultimi fodder alti Qua praticamente Vado sempre Con i più alti Io Servirebbe Ter Stegen Allison Ederson Sta gente qua Servirebbe Lewandowski Anche Un bello Lewandowski Pure Un bello Lewandowski Anche King Da affiancare Militar Mele Rudiger Baso Oppure Arauco Arauco Secondo me Arauco E Sì Ci potrebbe stare E beh Fortissimo Fortissimo A lui A noz ci va lì Ci va proprio a noz ci va Ragazzi Quanto costa quel Ternandez Quanto sta Che già il base È fortissimo Ternandez A meno che Non metti Charzaui A sinistra A meno che A sinistra Non metti Charzaui Quella Quella nuova Diciamo L'ultima Quella riuscita Anche Charzaui Potresti mettere Volendo Ci potrebbe stare Ci potrebbe stare E pure Charzaui Per è bella Ma che ci penso E anche del Paris Saint Germain Quindi farebbe intesa Anche con PNP Farebbe intesa Però Dipende da te Se tu si fa un po' di Dio Ti è fortissimo Quello Info sarà Quello più forte del base Sicuramente Ecco Magari non sentirà Così tanto la differenza Questa è top Questa è top Magari non sentirà Così tanto 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 la differenza Però Insomma Insomma è tanta roba Ragazzi Vedi Questa qui è top Per esempio Questa è top Sommero 84 Prendiamoli questi Comunque sono Ovvero l'alti Sono Sono comunque Ovvero l'alti Ci sta Ci sta Allora Marciano 80 Ok Chi mi ha vinto la squadra Enzo Eh questa è bella pure Questa è bella Quel Bellingham Sculato Sculato quel Bellingham Maledetto 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 Io farei Milità O Araugo Niki Se riesci Fai Milità Araugo Sommi stai una crema Stai Ma stramica bene Stramica bene Sì Neuer Ottimo Neuer Neuer Che sfida ti manca L'89 Ah l'hai pagato Ok Che che Ciò Pedro diventerà fortissimo Sommi Bel giocatore All'unico scambiabile Ok Ok Il pioniere Io sto facendo il pot Ma che tra l'altro Oggi scade tra l'altro Ragazzi Mi sa Oggi scade Tra le altre cose Quindi occhio Raga Perché oggi scade In teoria Oggi scade easy Ah Drago Silva Bene 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 Secondo pick Il grande dragone Silva Ragazzi Asensio Questo lo buttiamo Tranquillamente Facile Dammi ne uno Mezzo decente Su via Dai Vabbè Alvarez 81 Insomma Ragazzi Questi li buttiamo Tranquillamente sopra Easy Signori Ehm Sbolling 84 Bene Sbolling E fa l'uscire Sto Vinicius Non esce Non esce Ah sì Leaf non si trova Sono rari Sono molto rari Leaf Vero 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 Sono molto Molto rari E' più facile Trovare magari Un giocatore Tuono Che non Leaf Chi scade Bellingham Mi sa che scade Oggi Vinta via Se ricordo bene Se ricordo bene Ehm Volevo fare il pot Nel per il pianeta E 1000x per via De playstides Ehm Però quello del pot Pure non è male Però non c'è Trampista Avere quella 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 stamina Così e tanta roba Questa è 88 Comunque Con tutta la palizia Inizia Uuuuh La caga La caga Te l'ho detto Che vi faccio Dovare il tuono Che non Leaf Te l'ho detto La settimanella Dario Quinto mese Bentornato Buon giorno E per il mio Come stai Mi dico Darietta Mi sa che questa La condizione Domani sono Sono sì domani Forse Come stai Darietto Dovrebbe essere sì Giusto Come stai Cucciolo Troppano le eco No Giardino col terzo pick Vediamo un attimo Che becchiamo di qua Uh Werner Ok Ehm Ragazzi Icon dipende da voi Se la volete fare Volete provarci Ah Eccolo lì Sanco Finalmente TS Forte Charles Awi Ragazzi Dovete prendere Charles Awi Charles Awi Hernandez Davis Quello lì Quello che siuppa E tanta roba Anche Daia Vediamo un pochettino Che troviamo Locatelli 82 Il grande loca Il grande loca Sì però Se vado a me Ho 288 Ancora Secondo me E E poi invitami Marco Te li apro io Non ti preoccupare Vai tranquillo Te li apro io Vai tranquillissimo Tu invitami se vuoi No problem Vai tranquillissimo Allora Fred Fred 81 Fred 81 Andiamo con l'altro Andiamo con l'altro 83 Va bene Va bene Dammene uno decente Please Dammene Baltimore Baltimore 82 Dambronzo Ah Buono Buono E quanto Quanto lo vendi Quell'if Debole due giorni Debole un paio di giorni Sono me massimo Se no proprio Settimana prossima Ragazzi Speriamo che non ci metta Tanto Quello dipende Dalla ieri Ragazzi Dalle tempistiche D'elettronicarsi Dipende Spero che non ci metta Troppo tempo Però è da vedere Ecco È da vedere 85 No Ok C'è Rodri Ottimale Ottimo Rodri 89 rated Questo è super good È super good Questo Rodri Comunque Ottimo Devo dire 87 Va bene Sì però Ne serve un altro Ne serve un altro Ne servirebbe un altro Ragazzi Secondo me Orban Ci becchiamo più tardi Insuccio Ci becchiamo più tardi Amorimì Vai tranquillo Ci becchiamo dopo Carmona 79 Va bene Va bene Un altro 88 Mi serve Un altro 88 Mi servirebbe Di qua ragazzi Eh no Niente Non ce l'ha droppato Non ce l'ha droppato Assurdo